Si respirava un'atmosfera magica sabato 29 e domenica 30 ottobre a Urbino grazie ad un evento interamente dedicato alle nozze. Infatti alcuni tra i più importanti espositori del settore del wedding hanno esposto negli spazi della data, orto dell'abbondanza, nuove idee e tendenze per consigliare le future coppie di sposi sull'organizzazione del loro giorno più bello. Location, make-up, prelibatezze culinarie, fotografi, bomboniere, idee, regalo e intrattenimento musicale. Durante la fiera denominata Urbino ti sposa non sono mancate le presentazioni di destinazioni per viaggi di nozze e una sfilata con abiti da sposa e da alta cerimonia. L'evento, giunto alla seconda edizione, è stato organizzato dall'agenzia viaggi e di servizio al turismo Urbino Incoming. Urbino ti sposa, la seconda edizione è stato un grande successo di pubblico ma anche di qualità. Siamo molto contenti perché soprattutto gli espositori che sono venuti in questa fiera sono contenti anche dei risultati, di aver potuto anche interagire con le tante persone che sono venute. Quasi 1500 presenze, più o meno abbiamo registrato in queste due giorni qui alla data che è uno spazio molto bello ad Urbino, a Borgo Mercatale. Siamo contenti proprio perché abbiamo valorizzato uno spazio storico che non è spesso utilizzato e invece crediamo che per questo genere di manifestazione di fiere possa essere veramente adatto. Quindi è chiaro che le fiere degli sposi ce ne sono tante in giro però questa secondo noi ha avuto anche il merito di essere una fiera particolare, curiosa con tante particolarità appunto di espositori che regalano cose nuove, innovative agli sposi e a coloro che devono fare la loro cerimonia di nozze.